Sono giorni di attesa, una corsa contro il tempo per provare a salvare la Scandone e l'US Avellino dal Baratro. C'è tutta la voglia di vivere una nuova stagione da protagonisti ed invece si è protagonisti al contrario per la seconda estate consecutiva, con le cronache sportive di tutta Italia che parlano ancora di Avellino in difficoltà assoluta. Per quanto riguarda il basket, De Cesare ha chiesto ieri l'autoretrocessione in Serie B1, categoria nella quale si riducono drasticamente le spese ed anche i controlli, perché la Comtec non andrebbe a spulciare tutte le carte nel dettaglio, come fatto fino ad ora. Sembra questa la strada più percorribile per la palla a spicchi, con le note difficoltà a vendere il club. Per quanto riguarda il calcio, molto più semplice, nel senso che qualcuno, da ciò che si apprende, rileverà l'US. Al momento diverse manifestazioni di interesse, con Iacovacci, ex socio di Walter Taccone, con il quale conquistò la promozione a Catanzaro, impegnato come intermediario in una trattativa con un imprenditore del Nord. Il tutto ovviamente sotto la supervisione dei tifosi, che non vogliono che Lavellino finisca nelle mani sbagliate ancora una volta. Nelle prossime ore sono attese novità in tal senso, con il sindaco Festa vigile su quanto accade, ma che al momento dichiara. Siamo sul pezzo, sto seguendo anche in prima persona l'evoluzione delle due questioni, quella relativa al calcio ma anche quella relativa al basket. Parliamo di due patrimoni sportivi della nostra comunità. Certamente per ciò che concerne il basket c'è qualche difficoltà in più relativa alle iscrizioni nella massima serie e anche alla debitoria che porta con sé la Scandone. Per il calcio io sto sollecitando alcune offerte che finalmente debbono però essere ufficializzate. È chiaro che il compito che sto svolgendo non sarebbe di competenza del sindaco, ma lo faccio molto volentieri perché per il legame che ho con questa terra, per il ruolo di primo cittadino non posso lasciare nulla al caso, devo impegnarmi affinché ci possa essere qualcuno che venga a salvare il calcio ed il basket. Non possiamo permetterci di far scomparire questi sport. Sono molto più fiducioso per il calcio, al basket dobbiamo garantire la sopravvivenza e la massima serie possibile. Per il calcio già c'è qualcuno di credibile che ha richiesto l'Avellino? Abbiamo avviato alcune interlocuzioni, alcuni confronti, credo anche abbastanza concreti, ma attendo che siano formalizzate delle offerte ufficiali.